Buonasera, Manfredonia News, prego, parliamo direttamente con il dottor Elber. Sono l'architetto Guerra, sono consigliere nazionale di Italia Nostra. Allora, buonasera, siamo qui stasera incontrati con tutta la società civile e le altre associazioni per discutere delle questioni paleoliche, costruzioni delle paleoliche nella Marina del Gargano. Quali sono il punto di vista vostro e eventualmente i dinieghi e le ragioni per cui non si vuole che si costruiscano le paleoliche qui all'offshore nel nostro Gargano? Allora, Italia Nostra a livello nazionale sta combattendo una battaglia enorme da sempre contro le paleoliche perché riteniamo che sia un elemento di disturbo del paesaggio. Per cui quando siamo venuti a conoscenza di questi due progetti delle paleoliche offshore nel Golfo di Manfredonia rispettivamente da parte della Trevi e della VPD, ci siamo subito attivati nel voler far conoscere queste due realtà che si stavano consolidando a livello di valutazione in batto ambientale presso il Ministero. L'abbiamo voluto far conoscere appunto al territorio di Manfredonia. Per cui abbiamo indetto un'assemblea pubblica che abbiamo tenuto qui proprio nella Sala Convenia dei Celestini il 26 se non sbaglio di aprile dello scorso anno con la presenza del dottor Introne, il Presidente del Consiglio regionale. La nostra è una posizione ferma perché riteniamo che non solo le paleoliche disturbano il paesaggio e guastano il paesaggio ma riteniamo anche che quelle prospettate valutazioni, quei progetti prospettati di incendivazione e quindi di crescita di un fabbisogno energetico e quindi della soddisfazione del fabbisogno energetico in realtà non lo danno. Perché sono tantissimi i fattori che contribuiscono appunto a che queste pale praticamente non producono l'energia promessa e quindi se in altre nazioni ad esempio il limite di produttività è fermato nelle 2000 ore all'anno di produzione di energia elettrica se noi facciamo dei semplicissimi conti matematici vediamo che l'eolico, quello consolidato, cioè quello già esistente nell'Italia meridionale si basa sui 1300 ore all'anno quindi siamo fuori i limiti che le altre nazioni si impongono e questo sta già a significare che cosa significa l'eolico per l'Italia e un grande business per le grandi aziende. Di nulla, buonasera.